Buongiorno e bentrovati a questo nuovo appuntamento con la nostra rassegna stampa. Iniziamo subito con la lettura delle prime pagine, partendo da quelle regionali, poi andremo a dare un'occhiata anche ai titoli principali dei quotidiani italiani. Iniziamo dal centro edizione di Pescara, in apertura il titolo è questo qui, in morti in clinica, omicidio colposo, Villa Serena, la procura esclude il cortocircuito, oggi saranno effettuate le autopsie. Poi ancora gli effetti della finanziaria nel taglio alto, pensioni a segni più leggeri a giugno, rivalutazioni tagliate, addio al campione Niki Lauda, muore a 70 anni, una delle leggende, la leggenda della Formula 1. Poi ancora andiamo nel taglio centrale, partiamo dalla fotonotizia Pescara, parte all'assalto della Serie A a Verona con 540 tifosi. Questa sera l'andata della semifinale playoff, il giornale dedica, come leggete, un inserto di otto pagine proprio alla sfida contro il Verone al cammino verso la Serie A del Pescara. Vi ricordo a questo proposito l'appuntamento di questa sera con Diretta Stadio proprio per seguire la partita insieme ad Andrea Costantini e i suoi ospiti e Paolo Renzetti per i collegamenti dallo Stadio Bentegodi di Verona. Proseguiamo con la lettura del centro, troviamo di spalla l'intervista a Zoccoli dell'Istituto di Fisica Nucleare, non inquiniamo l'acqua del Gran Sasso. Per il vicepresidente dell'INFN Antonio Zoccoli non c'è, non c'è stato alcun inquinamento delle acque del Gran Sasso quando il 9 maggio del 2017 l'Arta rilevò tracce di sostanze nelle acque del suo grande bacino idrico, lasciando a secco decine di comuni nel Terramano. Chiaramente troveremo poi l'intervista nelle pagine interne. Nello spazio delle cronache Pescara verso il voto, oggi il ministro della difesa va a Rancitelli nel pomeriggio appuntamento nei quartieri con il più alto tasso di criminalità alle 15.20 in via Tavo, alle 16 in via Caduti per servizio. Poi ancora i lavori nella città di Pescara, cantiere aperte in zona ospedale di vieti e disagi oggi nella zona dell'ospedale, prendono il via i cantieri per due rotatori, una tra via Paolini e via Rigopiano, l'altra tra via Fonte Romana, via Montefaito e via Gole di San Venanzio, stop alla sosta. Poi ancora i nuovi rilevamenti, i dati del mare premiano nella costa pescarese e ancora cibi a rischio e nas chiudono il mercato, blitz di asle e carabinieri in via dei Bastioni a Pescara, trovati piccioni, escrementi e polvere. Nel taglio basso il buongiorno Abruzzo di Giuliano Di Tanna, se il carcere è migliore della vita coniugale. Andiamo avanti con il quotidiano Il Centro, passiamo all'edizione teatina, morti in clinico omicidio colposo, è il titolo di apertura, abbiamo già visto proprio nell'edizione pescarese del centro questo titolo che apre il giornale. Andiamo nel taglio centrale, nella fotonotizia da oggi si torna a pagare in tre parcheggi del centro, strisce blu ancora gratis allo scalo, questo per quanto riguarda la sosta a pagamento a Chieti. Di spalla nelle cronache, basket, Chieti in festa con i campioni di 48 anni fa, ci spostiamo ad Ortona, nuovi lavori, chiude ancora la pista ciclabile dopo la chiusura di un tratto per il rischio frana, scatto un nuovo stop per la pista ciclabile sul mare di Ortona. Niente bici e passeggiate almeno fino al prossimo 30 di giugno. Fondo Valle a 50 all'ora sale la protesta per quanto riguarda la strada che collega Francavilla a Chieti e poi ancora schianto sulla 1, muore pensionata, lanciano tragedia a Bologna, la vittima e Anna Iocco, feriti gravi marito e moglie. Andiamo nell'edizione teramana, sempre sul quotidiano Il Centro, il titolo di apertura, fusione, decidono gli imprenditori, Camera di Commercio, parola alle associazioni di Teramo e L'Aquila. Andiamo a vedere il centro pagina, ancora lo Sport Parma rileva il 49% del teramo calcio svolta nella società biancorossa, fumata bianca nella trattativa tra il patron Luciano Campitelli e Giovanni Palma, ex vicepresidente della Juve Stabia. L'accordo sancito ieri nell'azienda di famiglia del presidente Biancorosso prevede il passaggio immediato del 49% delle quote nelle mani di Palma, mentre Campitelli mantiene il 51%. Nello spazio delle cronache il comune vuole riprendersi Piazza Dante a Teramo, la società che gestisce il parcheggio, ha chiesto una proroga di altri 10 anni per poter rientrare delle spese, ma il sindaco D'Alberto ha detto no e ha chiesto un nuovo piano economico per valutare bene i conti. E poi a Roseto, mosaico tassato come se fosse una pubblicità, clamoroso errore della società di riscossione sul mosaico posto all'ingresso dell'arena Quattropalme, ha pensato che fosse l'insegna dell'omonima pizzeria dentro l'impianto sportivo. Città Sant'Angelo, morti in clinica, si indaga per omicidio colposo, abbiamo già visto in precedenza, e poi altra notizia di cronaca, tentano di corrompere i carabinieri, due terramani provano ad offrire soldi ai militari per evitare di essere multati. Andiamo a vedere adesso l'edizione aquilana, sempre sul quotidiano Il Centro, in apertura, giovane trovata senza vita in casa, tragedia all'Aquila, la 39enne originaria di Avezzano lascia una figlia. Andiamo a vedere poi il centropagina, la fotonotizia, 100 ricorsi al giudice contro il semaforo da incubo Avezzano, il caso T-Red in via 20 Settembre, continua a far discutere, sono tanti gli automobilisti che si oppongono alle multe del T-Red, il sistema di rilevamento che ha suscitato tante polemiche ad Avezzano e non solo, aggiungiamo noi, anche in altri comuni dove è stato installato. Nelle cronache ricostruzione dei comuni, il più veloce per i lavori, l'ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, ha emesso un provvedimento che ha lo scopo di accelerare l'esame delle pratiche. Dal 16 di maggio gli stati di avanzamento dei lavori, SAL, vengono esaminati dai comuni. Luco Dei Marsi picchia 14enne, la sua ex al supermercato, aggredisce l'ex moglie e la figlia minorenne della donna, mandandoli in ospedale con traumi vari, poi fugge nel nord Italia dove è stato rintracciato ed arrestato. A Sulmona di Masci altro anno con Casini e poi si rivota, queste le notizie dal comune, poi ancora fusione, decidono gli imprenditori, Camera di Commercio, domani riunione delle associazioni di Teramo e L'Aquila per quanto riguarda la fusione degli enti camerali. Pasciamo il centro, cambiamo testata, passiamo sull'inserto abruzzo del messaggero, prima pagina che apre così, rogo in clinica, ipotesi di dolo, incendio a Villa Serena, scatta l'inchiesta, escluse al momento, cause accidentali, lo scenario dall'esame dei due ricoverati morti, il giallo del materiale infiammabile. Infiammabile, questi insomma gli sviluppi delle indagini. Poi andiamo a vedere nel taglio centrale, caso autostrade dopo il tunnel, il caro pedaggi, aumento del 18% da fine giugno, sindaci e amministratori di nuovo in rivolta. A Pescara, in azioni i carabinieri del NAS, carenze igieniche, chiuso il mercato coperto, che vedete nella fotografia, e poi di spalla la crisi, 500 imprese in meno da inizio anno, continua dunque la crisi del settore dell'artigianato e della piccola impresa. Per la CNA, il settore più colpito è quello dell'artigianato, che ha la ripresa più faticosa. Poi nel taglio basso, delitto, ha ucciso il papà e ospite a Vasto, potrebbe trovarsi a Vasto, Deborah Sciacquatori, la 19enne, che domenica scorsa a Monterotondo, vicino a Roma, ha sferrato un colpo fatale al padre, poi morto, che da tempo vessava la famiglia con violenze e aggressioni. La procura di Tivoli ha infatto firmato il decreto di remissione in libertà. La giovane potrebbe trovarsi in casa di una parente a Vasto, Deborah era ai domiciliari, l'accusa nei suoi confronti è stata derubricata da omicidio volontario in eccesso colposo di legittima difesa. Nel taglio alto, andiamo a vedere le altre notizie. Teramo no, la multa no e allungano soldi ai carabinieri, finiscono sotto inchiesta. Lanciano schianto a Bologna, addio alla cognata del presidente dell'Ared trapiantati per il calcio di Serie B, il Delfino stasera al Bente Godi, in ballo la finale per la Serie A confermata. La squadra che ha battuto la Salernitana all'ultima giornata, unico dubbio, Crecco o Canutè a Verona, 300 tifosi biancazzurri. Vi ricordo ancora una volta l'appuntamento di questa sera con Diretta Stadio per seguire il playoff del Pescara. Lasciamo il messaggero, ci spostiamo adesso sulla città, il quotidiano della provincia di Teramo. In apertura, maxifurto in casa, in pieno giorno, ladri nel villino di un imprenditore di San Nicolò portano via 15 mila euro tra contanti e preziosi. Poi, a centropagina, ultimatum, Piazza Dante, nella fotografia il comune vuole tornare a governare, tra virgolette, la piazza. Poi, il pericolo che incombe sulla Statale 80, siamo nel Taglio Alto, il caseggiato al Bivio dei Prati verrà demolito. Proroga sugli interventi, più tempo per salvare la costa dall'erosione. A Roseto degli Abruzzi i giardini della villa riaprono per l'estate. Di spalla il giovane candidato Montebello Sogno, una Giulia Nova con la Movida. E sempre da Giulia Nova la veri nuovo no sul project dell'ospedale. Andiamo a vedere le altre notizie. Pasticcio politico sui Deors, tecnici assenti e bisticci in commissione a Teramo, proprio per quanto riguarda questo argomento che da tempo si dibatte in città. Nel Taglio Basso il Teramo Calcio, accordo fatto. Palma entra nel Teramo con il 49%, determinato a prendere il 50% nel 2020. Assumendo praticamente la stessa quota della famiglia Campitelli. Adesso andiamo a vedere i titoli dei principali quotidiani nazionali. Partiamo dal Corriere della Sera. Il titolo di apertura Salvini, il governo non cadrà. Intervista con il ministro dell'Interno. Avanti con Di Maio, l'Ocse nel 2019, la crescita dell'Italia pari a zero. La Lega modifica il decreto sicurezza. Il Quirinale sta valutando il nuovo testo. Dunque in apertura questa intervista del ministro Salvini, che ribadisce di voler andare avanti con il governo giallo-verde, anche se il retroscena, come vedremo poi in diversi quotidiani, non sembrano dargli ragione. Vediamo. Il retroscena, se cala l'indice di gradimento, Francesco Verderami fa questa ipotesi rispetto ad una possibile fine anticipata del governo giallo-verde. E poi l'editoriale di Antonio Polito, Uno più uno, ora fa zero, è la riflessione di oggi per quanto riguarda appunto la politica italiana. C'è poi chiaramente di spalle il ricordo di Niki Lauda, l'uomo che tornò dall'inferno, ricorderete tutto il rogo che coinvolse l'ex pilota, che rimase segnato soprattutto nel fisico, non chiaramente nello spirito, continuando ad essere uno dei più grandi piloti di Formula 1. Passiamo sulla Repubblica Pensioni. Il colpo di mano è il titolo che apre il giornale. L'Inps è diventato un'agenzia di propaganda per l'alleanza giallo-verde. Il presidente Tridico privilegia il reddito di cittadinanza e quota 100. L'ite sul decreto sicurezza equilinale irritato. Gli ultimi affondi del governo, l'analisi Europa, il voto necessario, l'articolo di Massimo Giannini, il commento, il cattivismo fuori legge, scrive Michele Ainis per quanto riguarda appunto gli articoli a corredo della notizia di apertura. E poi anche qui il ricordo di Lauda, il campione che visse due volte, non si arrese al fuoco che lo devastò, mascherava il coraggio con la freddezza. Andiamo a vedere adesso sulla stampa il titolo di apertura. Il governo trascina il colle nella rissa sulla sicurezza. Conte oggi vede Mattarella. L'Ox certifica intanto la frenata dell'economia, crescita a zero giù gli investimenti. Tria, viaglio 80 euro di Renzi, Garavaglia della Lega con la flat tax netto più alto. Il retroscena, la benzina dei populisti sul voto, è l'articolo di Francesco Bay. E poi lo scenario dopo il 26 di maggio, l'Italia teme la speculazione. Sempre sulle elezioni di domenica Europa, la mappa delle capitali a rischio crisi, dalla Polonia al Regno Unito fino all'Austria e alla Francia. L'onda sovranista, la trappola del ritorno al passato, scrive Marco Zatterin. Cambiando argomento, a centropagina la foto di Lauda con il suo casco da corsa, Dio allauda all'uomo che visse due volte. Proseguiamo con il Fatto Quotidiano, il titolo che apre il giornale, C.E.I. Votate tutti tranne Salvini, altra scomunica, tra virgolette, il presidente dei Vescovi Bassetti agli elettori cattolici, il leghista sconfitto pure dal Tar, lo Sprar a Riace non andava chiuso. Poi nel taglio alto, stragi, le verità oltre la mafia, ancora coperte dai dipistaggi, il PG di Palermo imbarazzato alle commemorazioni, la strage di Capaci, 27 anni dopo. Passiamo al sole 24 ore, il quotidiano economico e finanziario italiano apre così, dichiarazioni fiscali, il calendario cambia già da quest'anno, decreto crescita, l'invio di modello redditi e idap, slitta al 30 novembre, IMU e Tasi al 31 dicembre, paggele fiscali in ritardo, professionisti in pressing per la proroga dei pagamenti, caccia alla mediazione sui limiti da applicare ai nuovi controlli per le SRL. Queste le novità per quanto riguarda il fisco. Poi la proposta di Tria, DL Famiglia senza coperture, riaperta la partita sugli 80 euro di maio contro il ministro, i soldi ci sono, chi decide dove destinarli e la politica. Andiamo a vedere le altre notizie, caccia al gruppo Nuova Castelli, sfida Lactalis Granarolo per il grana e poi per quanto riguarda invece la tecnologia, lo scontro su Huawei, la Cina rievoca la lunga marcia, studia il piano B, la guerra commerciale con gli Stati Uniti. Da sette anni la società studia un sistema alternativo ad Android. Sapete tutti delle polemiche che riguardano proprio Huawei, con il presidente Trump, che sta facendo questa guerra dagli Stati Uniti verso la Cina, e con la decisione di Google di non aggiornare i dispositivi Huawei per quanto riguarda i suoi prodotti e dunque anche il sistema operativo Android. Poi andiamo a vedere l'outlook dell'Ocse sull'Italia, PIL fermo nel 2019 e più 0,6 nel 2020, queste le previsioni, le stime dell'Ocse. Andiamo sul manifesto, partiamo dalla fotografia come sempre dove c'è il titolo principale, così è se riace il gioco di parole del quotidiano comunista, la cittadina calabrese simbolo di accoglienza, resta nel sistema di protezione di chi chiede asilo, un giudice ha dato torto a Salvini, che a colpi di decreti aveva deciso l'espulsione, Mimmo Lucano racconta perché vuole tornare in comune e non andare a Bruxelles. Poi nel taglio alto, Salvini lima il testo, si approvi subito decreto sicurezza bis, nuova bozza, ma restano le sanzioni. E poi Assemblea Generale dei Vescovi, la CEI, non votate i sovranisti, dunque una netta scelta di campo dei Vescovi. E proprio sul quotidiano cattolico avvenire, andiamo adesso a vedere il titolo di apertura, Bassetti, solidarietà da portare in Europa, il presidente della CEI, l'Italia, modello di umanità, no a richiami religiosi esteriori. Nell'introduzione all'Assemblea dei Vescovi, la denuncia della guerra al terzo settore, dunque avvenire smorza un po' i toni, rispetto a quello che abbiamo visto in precedenza, poi sulla sicurezza bis, contettenta il rinvio, Salvini lima ancora il testo e prova a ripresentarlo, per approvarlo prima delle europee, il nodo coperture, tria, stoppa, il DL Famiglia, 80 euro errati. A centropagina, caporalato, operai indiane e a Latina, sfruttate, molestate e minacciate, il drammatico racconto delle donne che lavorano nelle aziende agricole. Andiamo adesso a vedere il messaggero, il titolo di apertura del quotidiano romano, caos governo, gelo del colle, cambia il decreto sicurezza, braccio di ferro sulla nuova convocazione del Consiglio dei Ministri, voluto da Salvini. Il Quirinale irritato per essere stato tirato in ballo da Palazzo Chigi, tria, DL Famiglia, senza coperture. Ci sarebbe stata una telefonata del Quirinale, di Mattarella, al Presidente del Consiglio Conte, per parlare proprio dei cambiamenti al decreto sicurezza e del fatto che il Quirinale aveva delle perplessità, telefonata che doveva essere riservata, invece il Primo Ministro pare l'abbia raccontata nel Consiglio dei Ministri, rendendola così di dominio pubblico. Ecco perché abbiamo letto questa notizia. Poi di spalla la sfida italiana a contare di più in Europa recuperando i giovani, l'articolo di Paolo Balduzzi. Ancora il blitz del Cardinale Lemosiniere aperta un'inchiesta e i PM indagano per furto di energia per lo scandalo del Palazzo Occupato. Ancora pensioni alte, tagli da giugno e prima rata degli arretrati, decurtazioni oltre i 100 euro all'anno, piccoli conguagli per 5,6 milioni di assegni. A centropagina la foto di Niki Lauda, Lauda il pilota che sorpassò la morte. Vita da film, tre titoli di Formula 1 sopravvisse al fuoco al Nürburgring, è morto a Zurigo a 70 anni per un problema renale. Poi c'è l'articolo e il ricordo di Piero May, coraggioso, non temerario. Questa è la figura di Niki Lauda, che è stato un grande dentro e fuori la monoposto. Andiamo sul tempo, il quotidiano romano apre così, Tria spegne lo spot dei 5 stelle sulla famiglia. Il ministro dell'economia, non esiste il miliardo di risparmi dal reddito di cittadinanza. Un flop, l'ultima arma elettorale di Luigi Di Maio. Flat tax, sì, ma via gli 80 euro di Renzi. Di spalla, i grillini lanciano la fase 2, non rimpasto, Gigino frena i piani della Lega. Vedremo che cosa accadrà dopo il vuoto. Legittima difesa, Deborah torna libera, Monterrotondo accusa derubricata per la ragazza che ha ucciso il padre violento per difendere la madre. Andiamo a vedere poi Libero, Giovane Straniero incendia una caserma, ospitiamo il marocchino e poi lui ci dà fuoco. Accade a Mirandola, in provincia di Modena, due vittime, quattro feriti gravi, venti intossicati, tra cui sei bimbi. Il nordafricano con precedenti fu accompagnato alla frontiera, poi ritornò qui. Andiamo a vedere le altre notizie, andando avanti con la verità, l'arme immigrazione, anche se bruciano le sedi della polizia, il decreto per cacciarli non è urgente. a Mirandola un marocchino che si spaccia per minore e dà fuoco all'edificio della municipale, provocando due morti. A Torino un nigeriano morde un agente e gli staccondito da Movimento 5 Stelle e Colle si impuntano sul decreto sicurezza. Forse è già oggi l'ennesimo scontro in Consiglio dei Ministri. Multe, espulsioni e rimpatri. L'ultima versione del testo. Poi a centropagina su Panorama un'altra indagine su Babbo Renzi e Matteo intanto è pronto a tornare. Ancora uccidere Lambert apre allo sterminio giudice salve il francese tretraplegico appello dei medici quasi 2000 handicappati stanno nelle sue stesse condizioni. Andiamo avanti con il mattino di Napoli. Conte, il gelo del Colle è il titolo che apre il giornale. Il Quirinale è fastidito per essere stato tirato in ballo in Consiglio dei Ministri. Cambia il decreto sicurezza sbarchi le multe alle navi non legate ai soccorsi. Andiamo a vedere le altre notizie. Sciopero selvaggio ospedali di Napoli senza lenzuola. Si fermano gli operai della ditta interdetta per mafia e il commissario in procura sui letti biancheria di carta. Poi ancora Lauda Nichilauda all'ultima curva del mito che visse due volte sulla morte del campione di Formula 1 e nel taglio basso le trappole digitali l'iPhone X per un solo euro dilaga la truffa sui cellulari. Prestate molta molta attenzione a quello che acquistate e cosa acquistate e dove l'acquistate online. Andiamo avanti ci spostiamo sui quotidiani sportivi nazionali partiamo dalla gazzetta dello sport il titolo principale pronto Sarri Agnelli chiama il tecnico del Chelsea e gli chiede la disponibilità per la Juve dopo Alleghi il presidente in campo sul mercato occhio a Milinkovic poi le altre notizie il ricordo di Nichilauda il mito che visse due volte a 70 anni e morti il leggendario pilota austriaco che vinse due mondiali con la Ferrari e uno con la McLaren nel 76 sopravvisse per miracolo al rogo del Nürburgring poi ancora tre finali tra finali di campionato scusate in mercato Inter va su chiesa e gioiello regalo sarà Champions Conte candidato alla panchina vince la causa da 11 milioni con il Chelsea incontro con l'allenatore del Sassuolo De Zerbi e col mio calcio nato giocando in Romania e poi Milan Campos aperto Gazzidi spunta il DS re delle plusvalenze Marziale Marre Fabinho medaglia al petto del dirigente che ora è a Lille Leo in uscita il portoghese è vicino andiamo a vedere adesso il corriere dello sport il titolo principale dedicato a Lauda immortale addio a Nichilauda l'uomo che visse due volte ha cambiato la Formula 1 visto la morte conosciuto la paura ha sfidato il Drey che dominato il mondo aveva 70 anni Montezemolo lo ricorda così dicendo era un eroe poi le altre notizie Conte in cassa e firma il tecnico vince la battaglia legale con il Chelsea condannato a pagare 10 milioni di euro di risarcimento adesso è pronto a formalizzare l'accordo con l'Inter poi il sondaggio e Sarri l'allenatore ideale per la Juve quello che si chiede ai lettori poi Roma il no di Elcia al nuovo contratto De Laurenti e Ancelotti rifanno il Napoli e poi Benevento Show in Serie B vede un pezzo di Serie A con la vittoria sul Cittadella andiamo a vedere anche tutto sport Juve casa mia e questo è il titolo di apertura Pogba domenica è tornato a Torino per la festa d'addio di Barzaglia ancora una volta ribadito il suo amore per i bianconeri siete sempre la mia famiglia poi nel taglio alto il Torino Toro Milan si gioca alla UEFA il K.O. di Empoli non chiude definitivamente le porte dell'Europa e Granata ecco perché violazione del fair play finanziario senza Champions i rossonieri potrebbero accettare l'esclusione dalle coppe davanti al TAS di spalla l'effetto Conte ha spento l'Inter sfiduciato Spalletti la squadra si è sciolta poi nel taglio basso Mossa Ducati un Marquez tira l'altro e Novara oltre Enogu ora il mondiale andiamo a vedere anche il quotidiano sportivo e chiudiamo il titolo principale Juve colpo in serbo c'è già l'accordo con Milinkovic Savic ma resta da convincere la Lazio ancora ballottaggio Sarrinzaghi per il dopo Allegri nel taglio alto il diavolo cambia ancora il Leonardo già i saluti ora più potere a Gazzidis rapidamente le altre notizie il Giro d'Italia l'arrivo a Modena Super De Mar Beffa Viviani Conte resiste in equitazione Piazza di Siena l'Italia cerca uno storico Tris break pubblicitario poi torniamo con la seconda parte della nostra rassegna stampa andiamo a vedere le previsioni del tempo eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6 buona giornata a chi si dovesse essere collegato solo in questo istante ripartiamo dalle pagine di primo piano del centro dunque pagine interne dei quotidiani abruzzesi la salute della costa mare i punti bocciati sono solo quattro i prelievi dell'arta promuovono la balneabilità il direttore Chiavaroli i controlli ai sistemi di depurazione funzionano poi ricerche petrolifere Trump sanziona il Venezuela e blocca Rospomare a Vasto ancora in vista dell'estate lavori di ripascimento stop il 31 di maggio senza emergenze motivate e ancora spiagge nel taglio basso spiaggia rate addio alle dune e al fratino denuncia del WWF basta le pulizie con mezzi meccanici dal Cerrano a Ortona passando per Pescara ancora nel primo piano del centro la sicurezza del Gran Sasso parla Zoccoli non inquiniamo l'acqua l'intervista che farà discutere il vice presidente dell'istituto di fisica nucleare difende la struttura e svela le misure prese per quanto riguarda appunto l'istituto nazionale di fisica nucleare e i suoi laboratori sotto il Gran Sasso il laboratorio punta sulla stampa 3D nuove tecnologie al servizio della scienza e dell'industria oggi la presentazione nel taglio basso gli abruzzesi al volante i più disciplinati lo studio in regione 877 veicoli ogni 1000 abitanti l'89% dei guidatori non teme controlli e multe la pagina Abruzzo le camere di commercio al bivio fusione ora decidono gli imprenditori domani si riuniranno le associazioni di categoria di Teramo e dell'Aquila per discutere sulla sospensione dell'iter nel taglio basso la regione svuota il palazzo di Viale Bovio criticità nella tenuta sismica per l'edificio nuova sede in via Catullo a 52 mila euro l'anno andiamo a vedere adesso la pagina Abruzzo del messaggero il caso Autostrade torna la grana del caro pedaggi sventata la chiusura del Gran Sasso i nuovi aumenti dalla fine di giugno i ritocchi intorno al 18% alla vigilia del grande esodo estivo poi premio del Consiglio dei Ministri allarme meteo il CFA dell'Abruzzo arriva in finale questo per quanto riguarda la pagina Abruzzo del messaggero andiamo sulla pagina Abruzzo della città aperta l'inchiesta per l'incendio alla clinica omicidio e incendio colposo nel fascicolo della procura sul rogo che ha ucciso due pazienti psichiatrici il Ministro Grillo dice faremo chiarezza per capire come sia stato possibile sono vicini ai familiari delle vittime e agli altri pazienti il Presidente Marsilio collaboriamo per accertare i fatti e le responsabilità sono molto turbato dalla tragedia di lunedì queste le parole del Presidente della Giunta è proprio Marsilio di Spalla Unione Europea nominato portavoce delle regioni italiane in Europa nel taglio basso le sanzioni statunitensi penalizzano le estrazioni in Adriatico ricadute negative per una nave di stoccaggio situata a largo di Vasto proseguiamo con con la pagina Abruzzo del centro lo spoil system è bloccato Forza Italia va all'attacco nel mirino degli azzurri dopo 2Arap finisce il consorzio di bonifica il consigliere Damario chiede al governatore quale è lo stipendio del commissario e poi caso autorità portuale Marcozzi striglia Marsilio decidi subito su Civitavecchia andiamo nella pagina di Pescara sempre sul centro e torniamo sulla tragedia a Villa Serena una sigaretta accesa dietro il rogo mortale sotto sequestro i locali di psichiatria da dove sono partite le fiamme a Città Sant'Angelo i vigili super esperti per scoprire i motivi dell'incendio nel taglio basso shock per Americo e Domenico i due morti Roccamontepiano piange il 63enne parlante e Vasto in lutto per l'ex oculista Di Carlo aveva 51 anni restiamo su questo argomento lo andiamo a cercare sulla pagina di Pescara del messaggero sotto sequestro la stanza del rogo Villa Serena carabinieri e vigili del fuoco del Niat a lavoro per ricostruire le cause esatte della morte dei due pazienti già ascoltata la titolare della casa di cura Concetta Petruzzi in quel reparto malati psichiatrici seguiti da sanitari esperti anche la regione annuncia indagini chiede una relazione all'asle di Pescara in arrivo il servizio ispettivo della sanità tra le reazioni quella del ministro Grillo che abbiamo visto faremo chiarezza detto il ministro e del sindaco di città Sant'Angelo Florindi un danno d'immagine per tutta la città queste le parole del sindaco che tra l'altro ascolteremo tra poco nel nostro servizio nel taglio basso omicidio colposo incendio le ipotesi le prime risposte affidate all'autopsia il PM di Stefano non esclude un'azione dolosa da parte di soggetti interni o esterni alla struttura e allora andiamo a vedere insieme il servizio una tragedia che ha scosso tutta la comunità pescarese l'incendio verificatosi nella serata di ieri all'interno di una delle strutture del complesso sanitario della clinica Villa Serena di città Sant'Angelo dove si trova la residenza per pazienti psichiatrici ha causato la morte di due uomini di 51 e 63 anni residenti a Vasto e Roccamontepiano ed entrambi con problemi di deambulazione i due imprigionati nella stanza invasa dal fuoco e dal fumo non hanno avuto praticamente scampo il pronto intervento del personale sanitario e dei soccorritori ha poi permesso di evitare un bilancio ancora più grave con una terza persona salvata e una settantina di degenti evacuati per precauzione dopo il primo intervento della serata di ieri questa mattina sono iniziati i rilievi tecnici dei carabinieri e dei vigili del fuoco per ricostruire l'accaduto e capire se le cause del rogo siano state accidentali o dolose ha ascoltato anche il personale sanitario presente ieri sera al momento dell'incendio la procura di Pescara ha aperto un'inchiesta tra i primi ad accorrere presso la clinica Villa Serena il sindaco di città Sant'Angelo Gabriele Florindi è un dolore di tutta la comunità soprattutto anche perché è accaduto all'interno di una eccellenza che abbiamo in Abruzzo che è Villa Serena tant'è che ho trovato subito anche presente la titolare della clinica insieme a tutti i suoi collaboratori un plauso va fatto come al solito ai vigili del fuoco all'arma dei carabiniere che subito ha messo sotto controllo tutta la situazione ma anche i dipendenti e la dottoressa hanno da subito sistemato anche i degenti su un'altra zona un fatto increscioso che non doveva accadere il mio cordoglio va alle famiglie dei due deceduti da subito è stato salvato il terzo che occupava alla stanza ma anche il fatto che non sia accaduto nessun tipo di persona che sia rimasta ferita anche perché abbiamo a che fare con un certo tipo di degente non è a che fare con persone coscienti o persone capaci di intendere e volere eravamo in un reparto molto molto delicato la mia idea è che ci sia stato diciamo un incendio indotto da parte proprio dalla tipologia di paziente perché la struttura è efficiente la struttura è agibile tutte le tutte le superllette sono inifue e quindi evidentemente non si tratta né di corticescuito né di altro ma bensì noi abbiamo sappiamo che la patologia di questi pazienti è quella che fanno abuso di fumo hanno in mano accendini e quindi purtroppo hanno potuto in qualche maniera anche loro tra di loro a peccare il fuoco però ripeto questa è una mia una mia personale cosa perché ci sono gli inquirenti che fanno il loro mestiere lo fanno meglio di me andiamo avanti voltiamo pagina restando sul messaggero il piano di Civitarese per i parcheggi il candidato sindaco di coalizione civica riunisce all'aperto gli assessori in pectore tra le auto in sosta in via del concilio un unico silo per ospitare le macchine liberando potenziali aree verdi ecco la prima delibera della giunta dei professori le altre notizie il centro-sinistra la sclocco in cassa anche l'assist di Bersani è arrivato ieri a sostegno proprio della della candidatura della sclocco andiamo avanti via bastioni sigilli al mercato coperto sporcizie ed escrementi di piccioni scatta la chiusura dopo il blitz del NAS dalla ASL lunga serie di prescrizioni per la riapertura trovate anche due lavoratori completamente in nero De Martini 60 area di vittoria gli avversari preparano la volata siamo a Montesilio Vano verso il gran fidale finale fidanza in piazza con i candidati fondi europei panichella accusa e poi ancora andiamo torniamo sul centro ancora nelle pagine di Pescara verso le elezioni comunali il ministro Trenta oggi a Rancitelli e Fontanelle il tour del titolare della difesa con i 5 stelle nelle zone a rischio criminalità Colletti dice farò assegnare alla nuova Pescara contributi per 11 milioni l'anno poi Bersani Sclocco farà rinascere la città il leader di articolo 1 lancia la candidatura nel centro-sinistra Lega e Salvini ricordano i tempi bui abbiamo già visto l'iniziativa di coalizione civica Civitarese riunisce la giunta in un parcheggio pubblico e la manifestazione del PD in comune sala piena per Pina Picerno nella sala consigliare di Pescara cambiamo argomento doppio cantiere rotatorie al via i lavori sosta vietata all'ospedale da oggi inizia l'intervento tra via Fonte Romana e via Montefaito all'altezza del CUP operai al lavoro anche tra via Paulini e via Rigopiano di Bieti fino a luglio il mare è tutto pulito i balneatori esultano le associazioni di categoria all'apertura della diga dai suoi frutti ora via anche l'ultimo divieto nel taglio basso oggi apriremo il mercato etnico l'annuncio dell'assessore Natarelli l'inaugurazione era stata fatta un mese fa andiamo avanti blitz in via dei bastioni i NAS chiudono il mercato di Porta Nuova abbiamo già visto cibi a rischio contaminazione per la massiccia presenza di piccioni attività sospesa fino agli interventi prescritti dalla ASL carcere con 115 detenuti in più e protesta San Donato sovraffolamento e turni estenuanti gli agenti di polizia penitenziaria scendono in piazza nel taglio basso in via Salsinvestro spiaggia ruba nei supermercati e viene preso 37 anni se ne attava in giro con alcune buste piene di merce continuiamo al parco di Cocco torna la musica indipendente da Miss Bolivia all'orchestra di Ginevra dal 28 al 30 giugno oltre 70 artisti si esibiranno all'Indie Rocket Festival e per chi arriva in treno sconti sul biglietto domani alle 11 al porto turistico via la plastica dal mare e a Pescara il progetto di Volvo proseguiamo con la pagina di Montesilvano verso le elezioni comunali società impianti e manifestazioni i candidati si sfidano sullo sport sono più di 40 le associazioni che promuovono le attività a Montesilvano con punte di diamante quali l'Acqua e Sapone la Skating Academy e la Pugilistica di Giacomo ecco i programmi per loro da parte dei candidati nel taglio basso trasporto gratuito al seggio per i disabili il servizio del comune in collaborazione con la misericordia pagina successiva servizi sociali alla Stella Maris in due rispondono al bando due cordate presentano la loro offerta ma la regione proroga il primo di luglio la scadenza per le candidature poi a Pianella Rino paese in lacrime in miglia i suoi funerali per la morte di Rino provinciali a Spoltore ad Otto Noiuola parte il concorso per cittadini ed aziende pagina successiva a Francavilla l'Europa a Francavilla ospitati 17 alunni Erasmus lo scambio culturale con i ragazzi provenienti da Polonia Germania e Romania la dirigente scolastica Zappacoste il prossimo anno i nostri giovani ad Hamburgo andiamo nella pagina della Val Pescara bimba cade nello scuolabus la madre i nostri figli a rischio con le Corvino la piccola dopo l'incidente è stata riconsegnata ai genitori con la testa sanguinante in ospedale le hanno applicato tre punti di sutura il sindaco ci dispiace non è mai accaduto nulla andiamo a vedere le altre notizie Parco Lavino affidata alla gestione Scafa il Consiglio Comunale approva la convenzione con Ambiente e Vita per quanto riguarda Moscufo verso il voto continuità e concretezza nelle opere insieme per Moscufo Claudio De Collibus governeremo insieme ai cittadini Moscufo cambia verso la promessa di Domenico Ferri andiamo a vedere sul messaggero la pagina di Chieti riaperta ieri la scala mobile allo scalo strisce blu gratuite il posteggio si paga a mano in due piazze torna attiva l'area scoperta del multipiano il nuovo amministratore D'Amico spiega soluzione definitiva solo con i parcometri andiamo a vedere le altre notizie nella provincia schianto muore la cognata di Bomba tragico incidente a Bologna al raccordo tra 1 e a 14 ferito il presidente dell'Ared trapiantati grave la moglie Adriana soccorsa e deceduta in ospedale Anna Iocco 73 anni era in auto con i parenti di ritorno da una visita a Pisa andiamo a vedere poi le pagine di Chieti sul centro la pallavolista scusate conferma tutte le accuse la 17enne in tribunale chiama in causa il dirigente della società sui presunti abusi in una casa in un ristorante molestie nello sport ex presidente indagato ieri la testimonianza poi ancora andiamo a Vasto Ondrangheta 12 testimoni rischiano il reato di falso nel processo di Vasto e poi a Chieti accusa di spaccio un innocente giovane condannato dopo l'arresto indicato un falso fornitore taglio basso se i giornalisti olandesi scoprono il frentano l'idea della chef lancianese Barbella poi la tragedia a Bologna tamponamento sulla 1 muore a 73 anni la vittima Anna Iocco gravi la sorella Adriana e il cognato Giulio Bomba fondatore di un'associazione per i dializzati ancora non si ferma l'incrocio schianto tra 4 auto paura a Piazzano di Atessa 4 feriti giovane donne incinta ricoverate all'ospedale di Pescara siamo così arrivati alle pagine di Teramo i problemi del centro storico il comune si riprende Piazza Dante la società che gestisce il parcheggio chiede un'altra proroga di 10 anni ma il sindaco dice no adesso decidiamo noi e poi commissione sui Deors ma è polemica due esponenti di opposizione abbandonano la seduta non c'è la delibera che andrà in consiglio nel taglio basso tassato il mosaico scambiato per pubblicità a Roseto è accaduto all'arena Quattropalme andiamo avanti tentano di pagare i carabinieri per evitare di essere multati un uomo una donna indagati per istigazione alla corruzione dopo essere stati fermati per controlli le è accusata di aver infilato quattro banconotte nella cintura di un militare per chiudere un occhio e poi figlia accusa papà picchiava la mamma Teramano a processo per maltrattamenti ci spostiamo sulla pagina della provincia Silvi il debito ereditato frena i lavori Scordella il sindaco a rischio il rifacimento del lungomare se saremo obbligati a ripianare il disavanzo della precedente gestione andiamo a vedere la pagina di Teramo sul messaggero appalti in ritardo a rischio 250 milioni di finanziamenti il coordinatore dei quartieri Bucciarelli senza lavori la città potrebbe bloccarsi valga l'esempio dell'esempio della giunta Sperandio quando le opere furono fatte in 16 mesi di spalla Piazza Dante il comune vuole gestire il parcheggio poi ancora il processo preso a schiaffi l'ex moglie e la figlia accusa il papà in aula nel taglio basso automobilisti tentano di corrompere i carabinieri pagina della provincia i negozianti chiedono ZTL pulizia e luci a Giulianova confronto con i 5 candidati a sindaco tra i temi anche la riapertura del cinema moderno rifugio di tossici e sbandati percorsi pedonali gazebo e riqualificazione ambientale ognuna la sua ricetta per risolvere i problemi della città in Val Vibrata Torano c'è chi rinuncia all'indennità a Sant'Egidio scontro su sociale e maternità nel taglio basso telecamere contro furti e vandali il vice sindaco investire in sicurezza a Roseto installati in 15 punti sistemi video e poi ad Alba erosione intesa tra sindaci serve un fronte comune firmato un accordo tra tre comuni per approntare insieme a una strategia che salvi le attività di stabilimenti ed hotel poi andiamo sulla città e proseguiamo con le notizie dal Terramano torniamo nel capoluogo ultimatum al privato per Piazza Dante chiesta la definizione di un piano finanziario entro 20 giorni altrimenti sarà il comune a deciderlo per i parcheggi a raso poi maxifurto da 15 mila euro a San Nicolò ladri nel villino di un imprenditore portano via con tanti e preziosi in pieno giorno in pieno centro poi Deors pasticcio politico in commissione mancano assessori e dirigenti tecnici per discutere il regolamento la minoranza si alza e se ne va cambi al vertice nelle forze dell'ordine vigili del fuoco polizia stradale guardia di finanza ecco chi arriverà ai comandi di Terramo e qui vedete tutti i nomi andiamo avanti di erosione la regione concede la proroga ai comuni delibera della giunta per permettere la conclusione degli interventi anche dopo la scadenza del 31 di maggio le autorizzazioni i comuni dovranno inviare le relative istanze entro il 31 maggio per ricevere le necessarie autorizzazioni andiamo avanti con le altre notizie tavolo regionale sulla vertenza TR l'obiettivo è verificare il futuro aziendale e il caso degli stipendi arretrati questo per quanto riguarda Colonnella poi andiamo a vedere invece le pagine dell'Aquila sul centro ricostruzione verso la ripresa lavori nei comuni pratiche più veloci agli enti locali le verifiche sullo stato di avanzamento dei lavori intermedi l'ORSC valierà il 30% di quelle finali nel taglio basso in arrivo Nao il robot che aiuta i bambini l'Aquila dal primo di giugno entrerà in funzione al reparto di pediatria dell'ospedale San Salvatore la tragedia indaga la polizia giovane donna trovata senza vita in casa la 39enne originaria di Avezzano lascia una figlia due anni fa si presentò in una lista alle elezioni nella città marsicana poi azienda vuole assumere 15 addetti l'Aquila la K2 a sede nel Tecnopolo d'Abruzzo nel nucleo industriale di Epile nel taglio basso no casa pound dentro a Palazzo Fibioni l'Aquila coalizione sociale contro la casa editrice di Polacchi indagato per apologia di fascismo l'arresto violenze e persecuzioni picchia 14enne la ex supermercato a luco dei marsi 39enne fugge dopo l'aggressione catturato sulla rivela romagnola numerose denunce a suo carico il giallo di San Benedetto dei Marsi morto nel fiume analisi sull'audi il RIS preleva materiale biologico per ricavarne DNA il test il 6 giugno ad Avezzano le polemiche sul semaforo 100 ricorsi al giudice Colucci rende note le motivazioni dell'annullamento della prima multa poi ancora istituto agrario diventa anche caseificio Castel di Sangro domani l'inaugurazione del laboratorio che va ad arricchire le attività degli studenti prima di passare allo sport torniamo sul messaggero per completare le pagine dell'Aquila superato lo scoglio del progetto San Massimo vede la rinascita la commissione della sovrintendenza sta per terminare il lavoro di approvazione servirà poi la valutazione di una società prima del via libera definitivo del genio civile made in l'Aquila 99 ore di festa presentata la tre giorni che salterà le tipicità del territorio lo chef William Zonfa sarà il testimonial con diverse iniziative programma ricco tra show cooking campioni di piazza esibizioni l'iniziativa diventa un marchio depositato a tutela dei prodotti andiamo a vedere poi le altre notizie Cosimati parte la mozione di sfiducia 11 consiglieri di opposizione firmano contro la presidente del consiglio comunale di Avezzano i suoi comportamenti non sono imparziali l'assessore Marianella non si presenta alla riunione di giunta tanto che il primo cittadino avrebbe minacciato di dimettersi siamo così arrivati alle pagine di sport andiamo a vedere sulla apertura dello sport del centro notizia che riguarda Allegri e Galeone la scommessa l'eredità di Galeone ad Allegri a Max Lascio Casa Barca e Orologi l'ex allenatore delle Pescara svela il patto con il suo allievo pur di convincerlo ad andare via dalla Juventus gli ho promesso le cose che amo di più compresa la mia villa in Sardegna dunque questa la rivelazione di Galeone c'è poi sul centro lo speciale dedicato ai playoff di Serie B in particolare alla scalata verso la Serie A del Pescara Pescara all'assalto della A la sfida ai raggi X con il Verona i favoriti gli intrusi alla licenza per sognare andiamo avanti Verona Pescara Brugman c'è Pilon esulta pinto insidia del grosso il capitano recupera Mancuso guida il tridente e vuole il bis al Bentegodi al centro della difesa confermato il Baby Bettella classe 2000 Campagnaro recuperato ma parte dalla panchina andiamo a vedere l'apertura dell'Abruzzo Sport sul messaggero Pescara a Verona in ballo la finale primo atto nella Bolgia del Bentegodi questa sera alle 21 in diretta su Dazon confermata la squadra che ha battuto la serenità ne ha dubbio Crecco o Canute a centrocampo gli avversari Tegola per i Veneti Zaccagni e Out nel taglio basso l'ex di Cara gli scarigiri avranno più pressioni noi adesso andiamo ad ascoltare prima di proseguire sempre con lo speciale che riguarda il Pescara sul centro ci andiamo ad ascoltare la conferenza stampa di Pillon non sappiamo gestire le partite noi dobbiamo fare la nostra partita cercando di fare il nostro gioco di essere propositivi e di fare gol perché in questo tipo di partita è molto importante il gol è importante loro diciamo che quando viene attaccato sono molto bravi nelle ripartenze perché hanno giocatori che hanno gamba Matos Di Carmine Laribi lì tutta gente molto veloce che negli spazi sono molto bravi però lì dietro ma secondo me quando sono presi un po' in velocità come è stata nella partita che noi abbiamo fatto qui l'ultima che abbiamo fatto quei contro di loro li abbiamo presi in velocità qualche difficoltà che l'abbiamo creata è più sul lavoro della carica nervosa che bisogna esserci su quello perché se tu muolli sulla carica nervosa tutto il resto poi mentale diventa difficile non troppa tranquillità perché non bisogna esagerare perché la tensione ci deve essere dalla partita perché la preparazione mentalmente tranquilli ma non troppo abbiamo fatto una fatica dalla Madonna per arrivare a questi livelli per arrivare a questa situazione insomma se non andiamo carichi per fare una partita noi dobbiamo crederci essere convinti di quello che facciamo convinti di poter passare il turno abbiamo una grande opportunità dobbiamo saperla cogliere perché se no tutto quello che abbiamo fatto svanisce sento dell'importanza della posta in palio che c'è nel senso che ci stiamo giocando tanto chiaramente tu sai bene che hai la possibilità di fare quattro partite cerchiamo di fare queste due bene per poi potersela giocare fino in fondo questa è un'opportunità per i miei giocatori ma anche per me per tutti perciò al di là del discorso Verona Pescara di tutto la cosa più importante è questa mister lei è concentrato però ha una visione del prossimo anno di lei sulla pancina del Pescara in Serie A ci pensa se vince l'ho detto se vinco ho il rinnovo automatico perciò se non vinco è un altro discorso mai dire mai è per quello che devo vincere se no come faccio a rimanere qua prova a sdrammatizzare un po' la tensione Pilon andiamo a vedere poi sempre sul centro gli avversari Aglietti Pescaraforte ma credo nell'impresa l'allenatore del Verona cerca di allentare la pressione sui gialloblu dobbiamo vincere voglio tanta aggressività di Carmine guida l'attacco Zaccagni come abbiamo visto in precedenza e KO l'altra gara dei playoff rimonta del Benevento Cittadella cade in casa i Sanniti vedono la finale partita finita 1 a 2 proseguiamo con lo speciale playoff del centro la Marcord dalla Beffa di Bologna al Triunfo di Trapani playoff in Bida al 2005 curiosità aneddoti e regolamento poi d'amico dalla Curva Nord alla Scrivania del Verona il personaggio un pescarese DS gialloblu proseguiamo con le voci della B tiri bocchi Verona favorito i bomber saranno decisivi Svok vince chi corre di più commentatori di Dason anticipano la sfida di stasera al Bentegodi di Carmine Mancuso tocca a voi trascinare la squadra a suon di gol Fatal Verona per il Delfino solo un colpo al Bentegodi precedente l'unico successo nel 2011 con Zeman in panchina e questa sera c'è il VAR con 8 telecamere costa 6.000 euro questo l'approfondimento insieme la curiosità sulla partita di questa sera e siamo così arrivati alla Serie C ancora sul centro svolta nel club bianco-rosso Parma rileva il 49% del Teramo l'avvocato napoletano nuovo socio di Campitelli il mio obiettivo è la B dice Berardo nuovo DG andiamo a vedere questa notizia anche sul messaggero eccola qui Palma e Campitelli nozze per il Teramo l'accordo è arrivato ieri dopo giorni di trattative un primo incontro tra le parti avvenuto giovedì scorso a Roma negli uffici del legale felicissimo ed emozionato questo il suo commento notizia che ritroviamo chiaramente anche sulla città svolta Teramo Calcio Palma prende il 49% sarà amministratore delegato e dal prossimo anno arriverà a condividere il 50% con l'attuale patron mercoledì la conferenza la prossima settimana ci sarà la conferenza stampa nella quale saranno rivelati i dettagli dell'accordo il legale sono molto felice l'ambizione è quella di tornare in B quanto prima e poi restando su questa pagina il basket la Teramo a spicchi sconfitta cerca il pronto riscatto contro Assisi torniamo sul centro andiamo avanti completiamo la lettura delle pagine di sport Acquessapone Pesaro sabato sfida di ritorno sfida scusate al ritmo di tango argentino Avellino contro i tanti connazionali a disposizione di Colini ci stima e rispetto ma voglio vincere il tricolore questa è la finale playoff di calcio a 5 moto 4 trionfa la sublimondo Daigo la squadra abruzzese vince a Parma la prima gara del trofeo italiano andiamo avanti il basket Achele prepara le valigie Roseto pensa Oliva l'ala non nego le mie ambizioni penso alla Serie A ma non per andare a scaldare la panchina e basta e poi Serafini l'amatori continua a migliorare pressione su Salerno per la finale playoff la bianco-rossa parla della gara in programma domenica in questo finale di stagione siamo riusciti a limare i difetti nel taglio basso ancora basket Terramas Picchi cerca il riscatto per il playoff di C-Silver stasera bianco-rossi in campo ad Assisi dopo il K-O in gara 1 completiamo anche il messaggero siamo in chiusura della nostra rassegna il futsal finale scudetto gara 1 si parte sabato alle 17.30 Lacque Sapone contro Pesaro in diretta su Sky Sport poi nel taglio basso il basket di A2 Scharze Futuro altri giovani dalla stella azzurra i motori i WCTCR Coppa del mondo turismo Tarquini fatica in Olanda nel quarto round a Zanvoort il pilota di Giuliano e il suo team non hanno entusiasmato e questa era l'ultima notizia per quanto riguarda Mattino 6 che tornerà domani alle ore 8 oggi la nostra informazione come sempre con le tre edizioni delle TG alle 14 alle 19 e alle 23 chiaramente vi ricordo anche l'appuntamento di questa sera con Diretta Stadio per seguire assieme la partita fra Verona e Pescara playoff di serie di serie B chiaramente ci sarà Andrea Costantini in questo studio con i suoi ospiti e Paolo Lorenzetti da Verona per il commento della partita per le interviste nel dopogara è davvero tutto grazie ancora vi auguro una buona giornata grazie a tutti